come risolvere tutta una serie di problemi pratici, di problemi quotidiani in auto con alcuni spray liquimoli di qualità professionale, quindi parleremo di una serie di piccoli grandi problemi che possono avvenire quotidianamente o comunque quando si esegue una manutenzione per la propria auto, ecco andiamo a vedere questi piccoli problemi e come risolverli. La gamma liquimoli comprende tutta una serie di spray progettati appositamente per risolvere appunto questi problemi, ad esempio partiamo dal problema degli scricchioli degli interni dell'auto, è un problema diffusissimo soprattutto quando l'auto magari ha qualche anno ma diciamo si manifestano questi rumori interni, questi scricchioli, come risolvere questi problemi quando magari la plastica fa rumore, un componente del cruscotto, un pannello eccetera fa rumore, ecco liquimoli ha progettato questo spray che vedete qui, che è un lubrificante particolare privo di silicone, quindi si può utilizzare anche in carrozzeria, che ha proprio la funzione di eliminare i cicolini, i scricchioli delle plastiche, infatti come vedete nell'immagine stessa, vedete è raffigurato questo pannello in plastica che è quello classico dove si comandano tutti i vetri del veicolo, ecco vedete la pulsantiera dei vetri elettrici del veicolo. Questo prodotto si spruzza nelle parti che fanno attrito, nelle parti in plastica che appunto con l'attrito fanno rumore e va ad eliminare o quantomeno a ridurre di molto l'amorosità. È uno spray molto apprezzato anche nelle carrozzerie, le carrozzerie quando smontano i pannelli in plastica, componenti interni in plastica dei veicoli, quando vanno a rimontarli in fase di montaggio possono utilizzare questo spray proprio per eseguire un lavoro per così dire più pulito in modo tale che non si presentino scricchioli strani. Questo prodotto quindi ha la funzione di eliminare i rumori dalle plastiche interne, è utilissimo su qualsiasi veicolo, come dicevamo soprattutto su veicoli che hanno qualche anno, ma talvolta anche veicoli nuovi magari realizzati con plastiche non proprio di alta qualità o montate a dovere, ecco con questo spray lubrificante si va a mitigare questo problema. Il codice esatto di questo prodotto è 2665, quindi se andate nel nostro store online autogold.it basta che scrivete nella ricerca libera in alto i primoli 2665 e troverete direttamente la pagina di questo prodotto. Andiamo avanti, diciamo ci può essere l'esigenza in auto di eseguire tutta una serie di lubrificazioni un po' diciamo a 360 gradi, ci può essere il tettuccio apribile che ha bisogno magari di una lubrificazione oppure una cerniera di uno sportello o qualsiasi altro componente, soprattutto in gomma e plastica, ma non solo, anche in metallo, in legno eccetera. Ecco che c'è questo prodotto ad uso universale, cioè va bene un po' su tutto, silicone spray liqui moli. Codice, lo andiamo a vedere, codice esatto 7389. Ecco, questo spray è un lubrificante universale adatto a qualsiasi scopo. Normalmente è utilizzato in particolare per le parti, magari le parti esterne come ad esempio le guarnizioni dei finestrini oppure parti in plastica esterne, soprattutto per lubrificarle e proteggerle sia dal sole sia dalle screpolature, insomma in generale per proteggere le parti in gomma che possono indurirsi e screpolarsi. Ecco, come vedete nell'immagine infatti è raffigurato un tettuccio apribile, questo prodotto per esempio è l'ideale proprio per proteggere la guarnizione, le parti in gomma del tetto apribile, ma è adatto in generale anche alle guarnizioni dei finestrini e a qualsiasi componente in plastica e gomma. Se andiamo a vedere la descrizione in italiano, vedete c'è proprio scritto, adatto per impieghi interni ed esterni, proteggi lubrifica e isola. Prodotto polivalente, impiegabile su plastica, gomma, metallo, legno. Elimina naturalmente i cicoli eccetera, naturalmente è un lubrificante a base siliconica, molto efficace. Questa, vedete, la cannuccia è molto comoda, vedete la cannuccia è molto comoda, si richiude e consente addirittura un utilizzo al contrario, quindi il prodotto funziona anche se la posizione dello spray è al contrario. Quindi ha questa particolarità molto utile sia in officina sia nel fai-da-te. Andiamo avanti con i problemi. Quando si esegue la manutenzione a prova della propria auto, che si tratti di un fai-da-te o di una riparazione, di una lavorazione professionale in officina, spesso capita che i bulloni, le viti, non siano piuttosto arrugginite e proprio non si riesce ad allentarle. Ecco qui che lo spray Liqui Moli 7390 ha proprio la funzione di sbloccare le viti e le parti metalliche in generale, particolarmente arrugginite e dure da allentare e da svitare. Questo prodotto è potentissimo, l'efficacia è praticamente istantanea, una volta spruzzato già dopo pochi istanti il bullone viene via senza nessun problema. È un convertitore di ruggine nel senso che si spruzza, elimina la ruggine e sblocca la vite. Quindi molto molto utile in tutte le operazioni di riparazione, soprattutto in officina nel fai-da-te. Naturalmente in questo caso noi stiamo parlando di auto, ma va bene su qualsiasi altro veicolo e qualsiasi anche altra riparazione in generale nel fai-da-te o in officina. Quindi spray Liqui Moli, convertitore di ruggine potente, sbloccante per componenti allucinite, soprattutto naturalmente viti, bulloni, eccetera. Altra operazione che richiede spesso un impegno particolare è quello dello smontaggio delle candele, degli iniettori e delle candelette, o candele insomma in generale. Candele ovviamente per motori benzina, candelette per motori diesel, per chi ovviamente non lo sapesse, forse un neofita. Questo spray consente di sbloccare, di disinstallare, smontare facilmente iniettori e candele di qualsiasi pericolo. Talvolta può essere molto faticoso, le candele sono molto dure da smontare. Ecco qui, basta qualche spruzzata di questo prodotto e vengono via molto facilmente. Quindi questo prodotto, come vedete, è della gamma ProLine, quindi proprio quella specifica per officine, è molto adatto sia appunto alle officine, ma sia anche agli appassionati più esigenti in fatto di lavorazioni, nel fai da te, eccetera. Quindi abbiamo già visto quattro problemi e quattro soluzioni. Andiamo avanti. C'è questo spray che vedete qui, spray per cinghie trapezoidali. La funzione di questo spray è di silenziare le cinghie trapezoidali. Codice LiquiMoli 4085. Questo spray va a proteggere e a silenziare le cinghie di distribuzione di tipo trapezoidali, quindi andate a vedere qual è la sezione della vostra cinghia. Comunque, questo prodotto ha la funzione di proteggere e silenziare le cinghie. La cinghia può diventare rumorosa non solo, parliamo naturalmente di cinghie non quelle metalliche, quindi quelle sono le catene, parliamo di cinghie trapezoidali, quindi quelle, diciamo così, in gomma. Possono diventare rumorose non solo quando è il momento di sostituirle, anzi, in generale vanno sostituite prima che diventino rumorose, ma questa rumorosità può esserci anche quando la gomma non è vecchia da sostituire. Ecco che questo prodotto si può utilizzare appunto per silenziare. In realtà si può utilizzare sia quando la rumorosità si è già manifestata e sia anche preventivamente. Quindi uno spray molto utile, in particolare per le officine, ma in realtà si applica molto semplicemente, quindi chiunque può applicarlo sulla propria auto. Quindi abbiamo già visto cinque prodotti, cinque soluzioni. Adesso andiamo avanti ancora, parliamo di questo spray che serve a eliminare completamente i cattiviotori dal climatizzatore. Questo è un vero e proprio igienizzante, elimina virus, batteri, qualsiasi contaminazione, per così dire, microbica che si annida all'interno dei condotti del climatizzatore. Il codice prodotto 4087, questa è una schiuma, vedete c'è il tubetto, si spruzza direttamente all'interno del climatizzatore, quindi nelle bocchette di areazione, poi smontate anche il filtro abitacolo e spruzzate il prodotto anche all'interno del condotto. Si lascia agire qualche minuto, dopodiché chiaramente consigliamo di sostituire poi il filtro dell'abitacolo, comunque rimonterete il filtro dell'abitacolo e poi avvierete il climatizzatore, ovviamente non stando all'interno del veicolo per i primi minuti quantomeno. Quindi questo è un potente, un vero e proprio igienizzante che elimina batteri, virus e qualsiasi cattivo odore, quindi è molto efficace, in pochi minuti si risolve il problema. Ogni quanto utilizzarlo, non sarebbe male utilizzarlo una o due volte all'anno almeno per mantenere sempre pulito e igienizzato il climatizzatore, chiaramente è importante anche respirare una qualità dell'aria adeguata all'interno del veicolo. Quindi con questo prodotto risolvete qualsiasi tipo di problema. Poi c'è quest'altro qui, quest'altro spray, Cliva Fresh, non è un igienizzante intensivo come quello che abbiamo appena visto, però più che altro questo è un prodotto molto efficace nell'eliminare i cattivi odori nell'abitacolo però anche, perché questo spray elimina i cattivi odori sia all'interno del climatizzatore sia all'interno in generale dell'abitacolo. Si schiaccia il bottone, quindi questo spray si mette normalmente ai piedi del passeggero anteriore, quindi si avvia questo prodotto con il pulsante, dopodiché questo spray viene, per così dire, incanalato in tutto l'abitacolo, bisogna accendere anche il climatizzatore, per cui l'abitacolo verrà direttamente pulito, igienizzato, mentre il climatizzatore viene igienizzato indirettamente, scusate, perché appunto avviando il climatizzatore stesso, essendo presente questo spray nell'abitacolo, il climatizzatore cattura questo spray e quindi poi, diciamo così, mangia questo spray che va a finire quindi anche nei condotti del climatizzatore. Quindi questo qui, Cliva Fresh, è un prodotto per eliminare i cattivi odori da abitacolo e climatizzatore e invece Clima Reimiger, questa è una vera e propria schiuma professionale, igienizzante e battericida per i climatizzatori. Quindi abbiamo presentato esattamente sei prodotti, uno, due, tre, quattro, cinque, sì, sei prodotti, no, sette prodotti per sette soluzioni. Quindi, riassumendo, in sintesi estrema, spray per eliminare la rumorosità, gli scricchioliti e le plastiche interne, spray siliconico, utilizzo a 360 gradi soprattutto per parti in gomma e plastiche esterne, ma si può utilizzare anche per gli interni, quindi uno spray universale. Abbiamo visto il potente, sbloccante, scioglie ruggine per eliminare appunto la ruggine e sbloccare viti anche molto molto arrugginite. Infine, lo spray sbloccante per candele, candelette, iniettori, eccetera, per favorire appunto la disinstallazione, lo smontaggio delle candele e degli iniettori. Abbiamo visto uno spray che serve ad eliminare la rumorosità della cinghia di distribuzione trapezoidale e poi abbiamo visto igienizzante, climatizzatore, schiuma e poi elimina odori per abitacolo e climatizzatore. Un ultimissimo prodotto, vogliamo farvi vedere, questo qui, Liqui Moli, codice 71-82, questo è un prodotto utilissimo soprattutto quando fa caldo oppure quando fa freddo, quindi in estate, in inverno. La sua funzione è quella di proteggere le guarnizioni dei finestrini. Sono molto costose le guarnizioni dei finestrini, quando si rovinano, quando sono diventate molto secche, bisogna sostituirle e sono molto costose. Con questo prodotto andate a proteggerle sia dal caldo che dal freddo, quindi evitando che si secchino, evitando che si formino delle crepe, un prodotto che costa poco, pochi euro, ma che davvero consente di risparmiare molto. Utilizzatelo almeno due o tre volte all'anno per mantenere le guarnizioni sempre in ottime condizioni. Liqui Moli 71-82. Tutti questi prodotti li trovate nel nostro store autogold.it per qualsiasi necessità di consigli e chiarimenti, naturalmente potete commentare il video oppure potete contattarci nelle varie modalità, Facebook, Whatsapp, Instagram, come volete. Per il momento è tutto, grazie per aver visto questo filmato. Siamo store ufficiale Liqui Moli, spediamo in tutta Italia e persino in tutta l'Unione Europea, sia a semplici appassionati, sia anche a officine, aziende, enti pubblici, club, eccetera. Un saluto a tutti da autogold.it Grazie critico C'è Grazie Poi logs Poi es Poi ono